Sono qui dal 2013 e da quel momento non sono più uscita da CEMON. CEMON probabilmente è casa per me e sarà per la quantità di tempo che ci passo, per il legame abbastanza particolare e unico con i miei colleghi e con il mio reparto. Sarà anche la volontà dei proprietari a voler tenere un determinato rapporto. Quindi tutta questa serie di fattori fa sì che io quando sono a lavoro, quindi in CEMON, mi senta a casa. Quando si lavora sui prodotti omeopatici dobbiamo trasferire a questi prodotti la nostra energia perché nel momento in cui quel paziente assume quel rimedio, assume tutto ciò che quel rimedio si è portato dietro dalla produzione vera e propria, dal piccolo gravolo che viene inserito all'implegnazione e a tutto ciò che poi ha intorno il confezionamento, tutto. E per me questo conta. Il nostro rimedio, secondo il mio punto di vista, è così forte perché ogni volta quel rimedio passa da una persona all'altra, quella persona trasferisce tutta la sua forza, tutta la sua energia a quel rimedio. È come se il rimedio quindi raccogliesse tutto ciò che viene trasferito dalle persone che lo manipolano al paziente. Questa è la forza.